A Bellizia Assunzioni è la cooperazione rinascita alla società in house del comune. Quattro le figure richieste dell'amministratore unico della società partecipata, Giuseppe Venturiello. I contratti di lavoro sono a tempo determinato ed avranno durata di 12 mesi. Il tempo settimanale da dedicare all'azienda è di 36 ore. Vengono richiesti tramite apposito bando una segretaria con le mansioni amministrative, un autista per il trasporto di persone e cose, un coordinatore dei dipendenti preposti alla pulizia degli immobili, una stessa figura con qualifica di manovale specializzato. Il coordinatore con qualifica di responsabile per l'attività di pulizia degli immobili e dell'igiene deve occuparsi della sanificazione di ambienti, gestione di budget, di prodotti chimici e una capacità nel relazionarsi. Per accedere al bando occorre la licenza media superiore. Con lo stesso requisito di istruzione possono candidarsi anche per ruolo il coordinatore dei dipendenti per una qualifica di manovale specializzato. Altro requisito richiesto è la patente B in corso di validità. Il candidato dovrà essere in grado di gestire e coordinare le attività degli operatori impegnati nel verde pubblico, manutenzione ordinaria, straordinaria ed attività di pronto intervento per quanto concerne il patrimonio comunale. Per la figura di autista si richiede la patente di guida della categoria D ed un certificato di abilitazione. Invece i candidati a manutentore elettrico dovranno occuparsi tra l'altro del montaggio e smontaggio di apparecchiature e delle verifiche acidofoni e sistemi telefonici. Infine la Società Cooperazione Rinascita ricerca il profilo di una segretaria con manzioni amministrative.